Alberto, vai davanti, vai a metterti al tuo posto, riprendiamo l'applauso al nostro Pasquale. Mi raccomando alla banda di attenzione perché le colonne devono stare su, se no roviniamo tutto. Mi raccomando, in bocca al lupo e Alessia, prego. Alessia. Questi due capolavori del cinema, ma la loro colonna sonora, composta da uno degli autori di musiche per film più prolifico e geniale, John Williams. Attivo dagli anni 50, Williams è l'autore che durante la sua carriera ha ricevuto il maggior numero di nomination agli Oscar, ben 47, per film indimenticabili come Etile extraterrestre, Schindler List, Lo Squalo, Harry Potter e Jurassic Park. Preparatevi ad un viaggio musicale che dalle galassie di Guerre Stellari vi porterà fino alla ricerca dell'arca perduta. Buon ascolto con Star Wars e Raiders March. Dirige il maestro Pasquale Celiberti. Grazie. 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 Grazie.